di evitare equivoci. Per quanto attiene invece alla seconda richiesta, è ovvio che le competenze chiamate in campo sono prevalentemente, gli interpellanti lo sanno e quindi non è il caso che sono prevalentemente quelle del Ministero dello Sviluppo Economico. Tuttavia, per quello che riguarda il Ministero dell'Economia, noi dobbiamo semplicemente precisare che l'eventuale adozione di misure di sostegno, anche di carattere fiscale, ulteriori rispetto a quelle che oggi ci sono, destinate a favorire le imprese operanti in specifici settori economici, deve tener conto non soltanto, come ovvio, ma questo è scritto nella Costituzione, dei connessi effetti sui saldi di finanza pubblica, ma anche dei limiti e delle condizioni poste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. Preciso quindi che l'adozione di qualsiasi ulteriore scelta di agevolazione selettiva dovrebbe dunque essere oggetto di preventiva comunicazione agli organismi comunitari per verificarne la dotabilità. Grazie, Signor Presidente. Grazie a lei. L'Onorevole Benamati ha facoltà di dichiarare se si è soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. Sì, Presidente. Naturalmente ringrazio il Vice Ministro. Sono soddisfatto per la risposta. Desidero però puntualizzare alcune questioni della risposta. Chiaramente, per quanto attiene alla primo quesito, cioè l'applicabilità delle attuali normative rispetto alla precedente, alla fase di prototipazione, quindi alla fase di realizzazione dei campionari, credo che sia esattamente nei termini in cui il Vice Ministro descriveva la questione, cioè tutte quelle attività che stanno a monte la realizzazione del prototipo che diventa capofila, quindi le indagini di mercato, quindi la scelta di tessuti, che sono a carattere innovativo, ancorché diciamo non di carattere scientifico, ma di carattere più tecnico in senso lato. E quindi da questo punto di vista credo che la questione sia perfettamente centrata. Temo che sia importante velocizzare però il chiarimento in materia di fruizione di questo credito d'imposta. Mi permetta, Signor Vice Ministro, lei sa per la sua grande esperienza che la fase dell'interpello, che pure è una fase importante, diffusa e significativa, su questo tipo di applicazione rappresenta una fase complessa che disincentiva questo tipo di azione. Quindi la via maestra, in quanto non è automaticamente autoapplicativa, la via maestra diventa quella di una chiarificazione netta della questione, che mi auguro sia e avvenga a breve da parte dei competenti corpi dello Stato. Per quanto riguarda la seconda risposta, Signor Vice Ministro, io qui sono più, diciamo, ho un aspetto maggiore di problematicità. Ritengo che il tema degli aiuti di Stato sia un tema importante, che non possa essere però quello all'interno del quale noi ci fermiamo quando dobbiamo intervenire per il sostegno di alcuni settori significativi. Il tema della ricerca e sviluppo e dell'innovazione è un tema che nel quadro degli aiuti di Stato è assolutamente coerente. In questo caso parliamo, e anche dalle sue parole, siamo all'interno di questo settore. Io credo che occorrerà, ma anche il Parlamento dovrà farsi carico di questa valutazione, occorrerà un'attenzione particolare a questo tipo di attività che è ovviamente riconosciuta anche dal Governo come attività di ricerca e sviluppo per tanti aspetti nel settore tessile. Quindi la ringrazio ancora una volta per la sua cortesia personale e per la qualità delle indicazioni che ella ha voluto fornirci, da questo punto di vista anche il Parlamento seguirà, e probabilmente con altri atti di indirizzo, questo tema a fianco del Governo. Grazie. Passiamo all'interpellanza urgente 2.419 dei deputati Vallascas ed altri, concernente orientamenti del Governo in merito alla presunta cessione di una quota di cassa depositi e prestiti e alla necessità di rafforzare gli strumenti di tutela e garanzia dei risparmi. Prego, onorevole Vallascas. Grazie Presidente. Cassa depositi e prestiti sembra allo specchio di questo Paese, un Paese che è sempre più diviso a metà. D'una parte ci sono quelli che sgobbano, che tirano la carretta, che fanno sacrifici per andare avanti, dall'altra ci sono quelli che pensano ai massimi sistemi, alle banche e alla fine.